Zia Revisore-M Richard Revisore-Mirrora Cristina Valente Revisore-Mirrora Quando a volte ci troviamo in un vicolo cieco, quando l'ostacolo che abbiamo di fronte a noi ci sembra più grande delle nostre possibilità, allora è saggio fare un passo indietro e metterci in discussione. Il nostro problema nasce a delle radici profonde e che vanno a minare il rapporto fiduciario tra un'istituzione indispensabile all'interno della collettività e la comunità e la classe dirigente del paese. Le radici sarebbero profonde del problema, ma mi basta per far comprendere arrivare un attimo a qualche decennio fa. Il muro di Berlino ha creato una rivoluzione, la caduta del muro di Berlino, in tutto il mondo. Quando noi eravamo abituati a vedere Don Camillo e Peppone, sembravano due nemici che volevano sconfiggersi, ma eppure ognuno viveva dell'altro. Eliminato uno, crollava anche l'altro. Infatti, caduto il muro di Berlino, nasce il problema Tangentopoli, una rivoluzione infinita nel nostro sistema e la comunità del paese viene aggredita da un moto di sfiducia, verso quello che erano i simboli dello Stato perché si è sentita fortemente tradita dai propri, dalla classe dirigente del paese e che chiaramente per proprietà transitiva si è poi trasferita a tutti i settori dei problemi del pubblico, di tutto ciò che è istituzione. E purtroppo l'incapacità della classe dirigente del paese di affrontare i problemi nelle sedi istituzionalmente preposte a questo ha fatto sì che molte volte fossimo chiamati a sviluppare un'attività di ammortizzatori sociali innaturale. Molte volte la protesta si è scaricata sulle piazze, le tensioni sulle piazze. Ed è chiaro che nasce un problema, anche perché noi da istituzione finiamo la fine per essere aggrediti sempre da quel moto di sfiducia generalizzato. È chiaro che gli episodi, sono 320.000 operatori nelle varie forze di polizia, gli episodi sicuramente negativi sono stati molteplici, sono stati commessi errori e per questo, se accade, se è accaduto, non chiediamo sconti, ma chiediamo di assumerci a pieno tutte le nostre responsabilità. Nonostante questo, nonostante questo moto di sfiducia generalizzato, rimangono, rimaniamo dall'80% dei primi anni 90, quindi ante, quindi nella prima repubblica, gli ultimi dati dell'anno scorso ISTAT ci dicono che le forze dell'ordine sono al 73%, la prima istituzione ancora che merita la fiducia dei cittadini, superiore al capo dello Stato a 65% e la Chiesa Cattolica al 60%. Quindi la flessione tutto sommato è stata modesta, però invece è stata ed è calata in quello che invece è uno dei punti importanti nella classe, nei punti nevralgici del nostro sistema, quindi chiaramente una parte della classe dirigente del paese, della cultura, del circuito mediatico e della magistratura. E questo ci pone in una posizione veramente difficile. Siamo con un dito puntato. E allora come fare? Soprattutto da parte di chi è preposto a salvaguardare la pacifica convivenza. E allora se questa è la nostra missione istituzionale, siamo noi che dobbiamo metterci in discussione e fare un passo indietro. Fare un passo indietro e dire se qualcuno deve essere messo sotto i raggi X, quelli siamo noi. Ed è opportuno, e abbiamo lanciato questa campagna due anni fa, proprio, l'abbiamo chiamata, verità e giustizia. Perché una giustizia nasce solo da una verità. Ma la verità e la giustizia senza anche un sentimento di disponibilità, di carità, rischiano di essere la verità un blocco di marmo e la giustizia una mannaia fredda. Faccio un esempio banalissimo, tra l'altro prima ancora di entrare in polizia per far comprendere cosa voglio dire. Era la seconda volta che mio padre mi dava l'auto, quindi non sto parlando di eventi tragici, e andavo a trovare la ragazza, la morosina, feci un sorpasso azzardato, ma senza far rischiare nessuno, lo stradone era grandissimo, la velocità di chi mi stava davanti era bassa, quindi mi fermò una pattuglia di quelli che poi sarebbero stati i miei futuri colleghi. Una persona giovane mi viene e mi contesta la contravvenzione. Io lo guardo sconsolato e gli dico sono uno studente, devo andare da mio padre. È la seconda volta che mi dà la macchina, non me la dà più. Lui si guarda un po' in giro, e mi ridà patenti e librezza e mi manda via. È chiaro che se è assunto una responsabilità è un omissionato d'ufficio, tra l'altro lo direi anche un illecito. Però questo vuol dire carità, vuol dire disponibilità. Non si può essere eccessivamente rigidi. Però chiaramente bisogna partire su un terreno di verità, perché il nostro giudizio sul nostro operato deve essere uno. Se è stata giusta o sbagliata, questo comportamento, non se questo comportamento esisteva o non esisteva. Dobbiamo ragionare sulla verità. E allora l'unico modo che noi abbiamo pensato è stato proprio quello di doverci mettere sotto i raggi. con, lanciando una campagna per dotare tutti gli operatori di videocamere. In questo caso noi abbiamo, erano spy pen, sono in grado di videofono registrare, proprio per certificare ogni nostro respiro. Quindi il problema non sarà più se è successo o non è successo. Ma se quello che è successo è un errore, non è un errore, è opportuno o non è opportuno. Questo è una valutazione che si deve fare. Avevo un grosso timore perché essere messi sotto i raggi X dà fastidio a tanti. Pensavo sarebbe stata una strada in salita. Mentre invece una soddisfazione grandissima mi è nata dall'ambiente interno, dai miei colleghi che si sono dimostrati altamente all'altezza e adeguati al ruolo, perché è stata una scivolata in discesa. È stata proprio un'ovazione, un moto, voglio dire, generalizzato in senso positivo nell'accettare questo tipo di proposta. E la soddisfazione, i dati ci danno, mi è nata anche dal fatto che nello stesso momento una società più avanzata per tutti i settori, da quello molte volte anche sociale, economico, tecnologico, come gli Stati Uniti, avevano a Los Angeles avuto la stessa idea. 600 operatori erano stati nel 2014, considerate che la nostra campagna nasce qui a Bologna, in Piazza Maggiore, nel novembre del 2013. Siamo rimasti un mese in piazza facendo finta di raccogliere contributi, ma a noi interessava parlare con la gente e spiegare che la verità era un bene fondamentale per tutti. Ed era importante che un'istituzione come la nostra potesse lavorare senza ombre. negli Stati Uniti hanno fatto la sperimentazione e si è dimostrato che, questa è una cosa bellissima, l'87,5% degli episodi critici tra le forze dell'ordine e l'utenza dei cittadini sono venuti meno. Un calo, un crollo, una prevenzione straordinaria. Questa è una grande cosa positiva e la cosa ci ha veramente inorgoglito. Siamo riusciti a ottenere un successo grandissimo in Italia perché con la nostra iniziativa abbiamo convinto la nostra classe dirigente e il governo a dover sperimentare nei reparti mobili e nei servizi di ordine pubblico. Ne sono state comprate 200 perché era il numero massimo come quantitativo economico per acquistare a libero mercato immediatamente, senza fare un appalto le procedure lunghe e faraginose per cui 50 a Torino, Milano, Roma e Napoli nelle reparti mobili sperimentazione fatta sotto il controllo del garante della privacy e con il suo regolamento e la sperimentazione si è conclusa positivamente per cui è partito l'appalto. Ma questo non ci è bastato e abbiamo fatto pressione perché anche sulle volanti nei servizi di controllo del territorio fosse approvata questa sperimentazione e siamo riusciti a farla ad accogliere. e anche questo è un grandissimo risultato ma questo non ci basta non ci basta perché noi vogliamo le telecamere in ogni ufficio di polizia perché noi dobbiamo essere una teca di cristallo non ci possono essere ombre sulla nostra opera e siamo certi che riusciremo anche in questo anche perché dove sono state piazzate nelle celle di sicurezza abbiamo avuto un crollo verticale del 100% degli atti di autolesionismo è chiaro che nella necessità ognuno fa quello che ritiene e quello di cui ha necessità per aiutarsi quindi anche una persona arrestata cerca di trasformare l'operatore di polizia non imputato in un procedimento connesso per cui la sua parola non vale più da pubblico ufficiale fino a prova contraria ma è diciamo visto il conflitto di interessi vale come la sua quindi è una strategia di difesa però significa a volte farsi male significano perdere tempo denaro e attentare alla verità e alla giustizia e anche su questo penso che riusciremo perché le nostre intenzioni sono le migliori chiudo proprio sintetizzando quello che è lo spirito della nostra iniziativa ambiamo noi essere strumento di progresso siamo qui al TEDx per questo non di conservazione molte volte riteniamo la legalità il rispetto della legalità riteniamo la tutela dell'ordine della sicurezza pubblica come elementi per preservare non è così non è così in verità questi la legalità l'ordine della sicurezza pubblica servono per promuovere concordia e pacifica convivenza che sono le vere le vere fondamenta per un progresso materiale e spirituale di una società grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti